ok vai vediamo che cosa esce voglio vedere blitz anche a me piacerebbe un bel blitz full ap però scopriamo vediamo se qualcuno di voi ha indovinato ma è la seconda volta che mi capita nella random challenge sto schifo vero ditemi che è la seconda ma quali ci sono dei campioni che sono già usciti due volte è già uscito due volte questo allora quali sono i campioni che sono già usciti due volte soraka due volte yumi due volte talon due volte a feva scusate suve ragazzi ora aiuto io cugino rap puoi rigirare la ruota così io posso scegliere quale dei due champion giocare tra l'altro a felio se non sbaglio intanto la regiro perché tu hai riscattato il rigira vi ricordo che il rigira è disponibile uno solo per live quindi se volete aiutarmi ragazzi a felio se è comunque un carry però vabbè magari dopo mi esce che ne so rakan lì sì che serviva a felio solo perché perché così va bene vabbè vediamo vediamo cassiopeia già più bella solo che così sembra un vermicello un lombrico però sì qualcuno ha scritto cassiopeia in chat nessuno ha scritto cassiopeia nemmeno a felio non chiamate la police ma si starta di che cubo vabbè penso di sì grazie a serpentina guardate che disegno strano cassiopeia tiene quattro velocità di movimento ma non può acquistare si vale a fino a 72 di velocità di movimento cazzo ma è tantissimo 72 perché normalmente le scarpe danno 25 queste danno 60 il massimo da 60 cioè io sono proprio il massimo se qua solo nei combattimenti non vanno quindi invece mio a no vabbè loro anex vabbè sì 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 se se vuoi risparmiare la fatica di cercare va bene comunque anche farli sul momento raggi si iniziava dire forse sì vabbè io darò fastidio chiamo di dargli subito fastidio ecco questo iniziate un po di fastidio 60 danni fatto altre 40 armiamo pingano ma io adesso ti colpisco di nuovo ecco altro po di danni uh graspato benissimo benissimo stanno andando tutto molto bene tra l'altro loro hanno un po di tank cioè tra renetton e mondo sono avranno un po di hp quindi mi converrebbe comprare gli endri ma io non lo comprerò perché me ne frega proprio un cazzo sapete che non è da me comprare una cosa del genere ah 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 oh porca sì ragazzi ho fatto doppia mamma mia che culo grande buono buono iniziamo bene grazie shibi del follo mi hai portato fortuna grazie shibi ma shibi ma se è così togli il follo e lo rimettilo anche nella prossima azione cazzo mamma mia shibi grazie di questo potere che mi hai donato pure replay mamma mia top foggy in chat grande ever urga fa una bella azione iniziamo bene can cassiopeia e mamundo era un po poverino stressato dal tutto il danno che stava subendo dall'outplay che sarebbe arrivato lui sapeva che non poteva competere con uno che faceva first blood sul suo compagno e quindi ha giocato male l'alleato è stato ucciso dovrebbe essere un problema tra l'altro a me non arriverà mai il predator con questo con questo champion eh ho letto al tempo ho letto al tempo adesso posso attaccare il minion più velocemente guardate si farma per il minion più o meno avete visto che figata ecco come si gioca con l'omnistore ragazzi vi adattate alla runa che avete tipo adesso abbiamo questo schifo qua e adesso noi cerchiamo di fargli danno vieni qua te vedete non ha funzionato molto bene però abbiamo fatto capire qualcosa comunque si maxa lei non la cu devo non devo fare lo stupido ecco qua bene oh ti piace proprio prendere un po' di veleno in faccia allora prendi vuoi ancora un po'? ce ne ho infinito vuole morire secondo voi ciao raga benvenuti purca abbiamo flashato qui eh grazie ragazzi ma ogni volta che qualcuno fa il follow io faccio delle kill ma continuate così allora invitate amici ditegli di lasciare il follow così io vingo tutto bravi raga benvenuti a tutti ok ma dai mi stavo grattando non vale ottima mira ero proprio lì l'altro ci muore lui però ma si vabbè ma quanti ma porca puttana c'è ma poi ma perché c'è bard qua che è pushata la botling vabbè bard ha preso lo shutdown gold reset ok qualcun altro vuole venire al serpentino sono 4-2 e abbiamo 4 kill tutte io fatte in 5 minuti è un flash che faceva un sacco di danni vabbè mi si attiverà prima il cronografo pasta al sugo buon tornato già avevo una persona che si chiamava pasta al sugo quando lo streamavo cioè ho sempre streamato perché non la senti con lei? perché non mi piace e vi vado la settare di attacchi base cioè più stile dovete sapere che in questo gioco ci sono dei punti segreti che si chiamano punti stile ecco che sono inventati io però attenzione bruciato non si salva mai nessuno qua eh ora abbiamo il pta ok non serve più serie di uccisioni serie di uccisioni del nemico vabbè risolveremo ragazzi muori con grazie è il tuo secondo account ah ok ecco allora bentornato comunque ragazzi volevo chiedere a voi che siete qui in live adesso mi si sente bene ci sono problemi di audio va tutto ok mi sentite normale come sempre perché prima ho staccato il microfono quando ho fatto pulizie e l'ho riattaccato quindi magari è partito qualche qualche rotella devo comprare uno nuovo quindi non so ditemi se si sente bene ok attacchiamo attacchiamo facciamo un po' di torre potrebbe tornare mundo secondo voi per l'ennesima volta abbiamo ben di no questo lo bruciamo un po' passiamo i danni zitti dato che sti biscotti non curano di niente la fanno davvero schifo li odio adesso la usciamo aspettate un attimo ci sono mi sta pushando un sacco ma è 3-0 Renekton ragazzi ma io questo Renekton l'ho già visto si chiama Renekton e gioca Renekton Letality l'ho già visto da qualche parte l'ho già incontrato possibile è possibile è possibile cazzo tu a te codice ce l'hai in mente questo qua questo Renekton io l'ho già visto sono sicuro non è che l'abbiamo beccato in una live non so se te lo ricordi tu che ci sei sempre buonasera miglia oh c'è una guarda lì fra togliamo eh no preferiamo morire quello mi sa che non funziona molto lo sforbicciamento ma questa Gwenne sta ferma immobile ad autoattaccare ragazzi ma cos'era un bot abbiamo i bot in squadra vabbè non da Rick ah ok forse forse è lì può controllare il suo micistory guarda se ci sono io nel suo micistory dovrebbe essere potremmo fare un'interessante scoperta ciao Diego allora abbiamo i bot in team e dobbiamo vincere questa partita ragazzi ce la facciamo la spatola adesso la usciamo un attimo fra appena appena posso la esco non ti preoccupare adesso c'è una situazione tragica come vedi 1-3-1-2 e io 5 e loro hanno fatto pure il dragone dobbiamo aggancare la bot lane dobbiamo aggancarla da qua il dio santo bard mi ha visto eh niente raga muori cazzo muori anche tu qualcun altro che vuole morire ma io distribuisco morte vai 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 guarda 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 come vuole morire w w prima prima la w porca puttana orga ah non aveva mana ah no si ce l'aveva w lì proprio a schifo a sfregio hai chiesto una w tieni starda vuole il carretto mi sono arrabbiato facciolo vedere la spatola ta 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 eccola qua guardate che d'oro eppure c'è scritto la urfa anche bella vero bene 5 euro adesso cazzo scherzo va bene va bene andiamo avanti cosa compro che mi compro mi compro ah questa dai potremmo farcelo lo stesso l'abbraccio demonia così abbiamo lo stesso i danni nel tempo che ci aumentano armat... cos'era sto suono? ah è arrivato il dark harvest ah infatti non capivo cosa fosse il suono beh era il suono del dark harvest senza avere il dark harvest senza che lo abbia triggerato 5 e 1 top molto molto ok please Gwen don't feed eh sì vogliamo la chat da qua dai è troppo incasinante poi magari vi rompe il cazzo però così non la vedete quando arrivano i replay vabbè non li facciamo preso beh mi sono arrivato un bel po' di danni eh ok oh mia ragazzi che strage questa partita riusciamo ad aiutarli? arriviamo Fra girati Fra girati e diventa gigante fai la mossa del lupo che schifo di doppio buco ho fatto buono buono questo mondo me ne sta schivando tutte eh mondo si è oppure sono è necessario lo smite puttana allora qua qua c'è un nemico speravo sputasse più in là niente porto lo sputacchio ok dai vieni qua non vuole essere colpito ragazzi ah adesso me ne scrivono tutte le abilità fanculo lasciatemi in pace eh vado back ho il cronografo qui ma non va molto bene stanno prendendo il sopravvento i nemici non si riescono più a fermare come possiamo risolvere questo problema Gwen ha preso il mietitore ok fa schifo Gwen col mietitore ragazzi ma si sa che si builda al riffmaker no? l'altra sera io l'ho buildato ma cazzo seguite seguite le streaming questa gente qua andiamo a linkargli la live va 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 che noob arrivo preso lo shutdown grazie ero lì per lui non volevo davvero aiutarti volevo solo fare soldi funziona così sto gioco ragazzi quando vedi lo shutdown eh però beh vendiamo i lupetti piccoli così gesto per fare un po' di soldi che appunto vogliamo solo i soldi eh Ciro mangio la pizza fra poco torno dopo ma scusami ma non hai già mangiato quante volte mangi? ti piace mi debba fa cazzo ma che cazzo ne so io? eh non gioco mai io cazzo quindi non lo sento per me è come è come la prima volta che la gioco o io fate qualcosa team bravi attacca auto attacca grazie ma però meccanicamente ci stai vabbè meccanicamente ci so giocare questo gioco va bene andiamo di raven se non avesse avuto quella doppia v mannagina che palle va bene cosa possiamo fare per risolvere questo problema l'hanno preso ora si vieni fra vabbè ottimi danni scusa non lo dico più madonna santa ragazzi ma un secondo mi ha fatto durata scotto proprio imploso vabbè pensavo di tankare un attimo di più su un anno bravo renegg molto bravo ok se ti entro in circolo è la fine il raven ho appena finito di mangiare ottimo mangio il torno rap ottimo ragazzi qua tutti vanno a mangiare o sono tornati a mangiare è fantastico fare laven quest'ora qualcun altro che sta mangiando o ha finito di mangiare adesso o sta per andare a mangiare lo abbiamo in da chat allora quelli che devo stare attento a affrontare sono renecton e mundo va bene cercheremo di evitare gli scontri diretti con questi ragazzi un po' di ale of blade poi tu considera anche questo Ciro sto usando anche l'omnistone quindi non sarebbe nemmeno la runa da dover usare con lei quindi se sto facendo bene con una runa come questa significa che proprio dai mi sono portato il cibo davanti al pc mi sono appena svegliato faccio finta di andare a mangiare Fierce nella stava io sono appena tornato da pranzo oh porca grande pasta al sugo io per cena camomilla e tanto sigerino io invece ho mangiato bam grande grande Mario eccomi qua addio eccomi qua addio ciao Mario ottimo meme grazie del prime caro mamma mia top Mario poi dobbiamo parlare di quella roba eh si mi dimentico sempre di scrivere alle persone ma oh fra io mi devo prendere la zonia solo per ridurre i suoi danni modo da non essere one shottato cioè questo mi state dicendo io mi devo prendere la zonia solo per non venire one shottato in un millesimo di secondo interrogazione di arte su 50 pagine quella brutta vecchia iracchia di merda gliene mancano 11 da interrogare o il 9% periodico di possibilità di essere interrogato e i epo 9% periodico è praticamente 10% quindi significa che è una su 10 è tanto 10% eh senti io mi faccio questo one shotto tutti quanti gli altri poi dopo questo facciamo la zonia ok che mi da 45 questo mi darebbe altri 10 quindi arriverà 55 però cosmic drive mi piacerebbe molto adesso vediamo ci pensiamo va bene intanto mi sono preso un bello shutdown su Renekton però cazzo non pensavo che fosse così minaccioso bravo questo Renekton io l'ho detto ai ragazzi che l'hanno già incontrato mi ricordava qualcosa ok bellissimi flash del cazzo ma chi cazzo sta flashando scusate dai dai ora vai via da lì che c'è Renekton che ci sono mondo run away la base la base la base la base le torri le torri le torri le torri le torri la base la base fate qualche cosa qualche cuno che caldi devo riscattare le crempenze che disino streamer eh purtroppo l'abbiamo già fatto oggi pomeriggio l'hanno riscattata oggi è riscattabile una volta al giorno va bene va bene devo usare Ezra Lion dipende dal destino non sono io che scelgo chi gioco nelle mie live lo sceglie il destino io non so mai quello che dovrò giocare io dovrò sempre adattarmi ok per questo c'è scritto come titolo random channel guarda la scalata sempre random è tutto random non sappiamo che cosa dovremmo giocare non sappiamo cosa succederà domani nelle nostre vite sappiamo che forse esisteremo forse quello si e quindi sappiamo che vivremo ma non sappiamo cosa faremo non sappiamo cosa mangeremo non sappiamo con chi parleremo cosa ci accadrà di bello e cosa ci accadrà di butto di butto ovviamente quindi ragazzi state attenti quando dite queste cose puoi giocare Ezra eh si può rispondere in molti modi a questa domanda ma solo una è quello giusto fratm dio bono come cazzo è possibile che anche il mondo mi sciotta il mondo non subisce danni è troppa magic resist ma che cazzo di danno fai fra vabbè fa danno di tutti i tipi va bene facciamo così allora c'è bisogno di magic pen per mondo c'è bisogno di resistenza per quell'altro là c'è bisogno pure di riduzione cura adesso vabbè riduzione cura non tap però ragazzi uno alla volta no dov'è morgana vai morgana raga non possiamo perdere sto game no raga io mi rifiuto basta concentrazione non guardo più la chat devo concentrare raga sul serio ci proviamo va dura no impossibile va bene basta mi arrendo torno a guardare la chat non so più cosa fai ragazzi come faccio a vincere sto game stavo giocando anche bene mi sono distratto troppo pensavo che di essere bravo merda dai lì niente sono molto triste è un po' triste quant'è quant'è mi si chiude mi da sta roba 52 fa che vanno baron vanno baron possiamo faietare forse non ci conviene hanno baron e non ci conviene assolutamente come cazzo facciamo come cazzo facciamo cristo santo ecco bravo renekton bravo va bene renekton li ha hard carriati peccato peccato di bologna ciro se lo sapessi e poi c'è scritto sotto la live tu non guardi mai vabbè niente ragazzi è andata male Gwen ci ha provato ha preso il campione non sa neanche come si builda vietitore che è sbagliato first item quando su Gwen giungla è meglio nascer tutto forse in generale e il sagoma land per l'omni per l'omnivamp ma vabbè peccato porca puttana peccato però ho fatto le 15 kill giusto ce l'ho fatta le kill mancava una kill no porca puttana tutto male ragazzi tutto male che unlucky di game che onoriamo boh rafael che unlucky di game e niente ragazzi però ho giocato decentemente sicuramente l'anime phase è andata bene ho fatto dei bellissimi outplay ai primi livelli contro i gank di mondo purtroppo però Arnecton è andato un po' fuori mano vabbè potevo potevo pensarci prima potevo concentrarmi di più essere più impattante bot lane sicuramente invece cazzeggiavo parlavo con voi chiacchieravamo eh vabbè è normale ragazzi è la vita dello stress